ehi la sfigatoni come va siete ancora in quarantena in lockdown chiusi in casa al buio no qui si sta benissimo devo dire è fantastico come come faccio a essere qui ma io posso andare dove voglio perché ho la patente di immunità non sapete cos'è una patente di immunità ma dai ne parlano tutti anche i giornali fai un test sierologico guardi se hai gli anticorpi contro il coronavirus se hai gli anticorpi significa che sei immune e quindi puoi andare in giro tranquillamente dove vuoi c'è scritto qua sono immune quindi io posso andare dove mi pare altro che lockdown e cavolate varie in realtà non è proprio così e la patente è falsa l'ho fatta io al computer perché perché non esiste nessun patentino di immunità d'altra parte mai fidarsi di un certificato con il logo di topolino la storia del patentino di immunità di cui si sente parlare un po' dappertutto è una stupidaggine se riguarderete il video fra qualche mese forse non sarà più una stupidaggine ma nel momento in cui vi sto parlando è poco più di una fantasia ad oggi non esiste all'orizzonte nulla che possa essere usato come patentino di immunità i test sierologici sono importanti ma per un altro aspetto che non ha nulla a che fare con patenti di immunità viaggi al mare o in montagna adesso vi spiego perché questo video è fatto in collaborazione con generation una iniziativa di divulgazione a cui partecipo in prima persona andatevi a vedere e mettete il like alla pagina facebook di generation perché ogni settimana troverete notizie spunti video e altre cose interessanti sulla divulgazione della biologia certamente in questo periodo di coronavirus il progetto generation è impegnato per cercare di dare il massimo di informazioni possibile su questa malattia e vi segnalo anche studenti e docenti dei materiali didattici che trovate sulla piattaforma rock science e che servono e sono utili per fare magari lezioni a distanza in questo periodo quiz schede divulgative eccetera vi metto i link in descrizione sia per la pagina facebook che per i materiali didattici quindi andateli a vedere utilizzateli e fatemi sapere se vi sono piaciuti esistono due tipi di test per il coronavirus i tamponi di cui ho parlato nel video precedente vi metto il link in descrizione andatelo a vedere e i test sierologici di cui parlo in questo video e che sono alla base del nostro famigerato e immaginario patentino di immunità la differenza fra i due test l'ho spiegata nel video precedente ma in breve i tamponi cercano le sequenze genetiche del virus e quindi ci dicono se una persona in quel determinato momento ha o meno il virus nell'organismo i test sierologici invece servono a vedere se una persona ha sviluppato gli anticorpi contro il virus che è una cosa molto diversa quando il nostro sistema immunitario incontra qualcosa di nuovo produce degli anticorpi che sono delle molecole che riconoscono in modo specifico quel determinato agente e aiutano il sistema immunitario a neutralizzarlo una cosa importante che spesso si dimentica di dire riguardo gli anticorpi e che noi produciamo anticorpi contro parti del virus non contro l'organismo nel suo insieme il sistema immunitario riconosce delle molecole non degli organismi il che significa che quando noi incontriamo il coronavirus produciamo anticorpi contro le parti del coronavirus che il sistema immunitario è in grado in qualche modo di vedere una molecola per cui vengono prodotti degli anticorpi tecnicamente si chiama antigene nel caso del coronavirus gli antigeni più ghiotti sono quelli che stanno sulla superficie del virus i famosi spikes di cui ho parlato anche nel video sul coronavirus andatelo a vedere vi metto il link in descrizione dal momento che queste molecole devono stare esposte sulla superficie del virus sono esposte anche al sistema immunitario che le vede e fabbrica anticorpi contro di esse questa cosa degli antigene è importante perché significa che non esiste un anticorpo unico contro il coronavirus ma persone diverse produrranno anticorpi diversi tanti anticorpi diversi magari anticorpi simili ma mai anticorpi davvero identici uno all'altro alcuni di questi anticorpi funzioneranno meglio altri peggio insomma mentre i tamponi vanno a cercare un virus che è sempre uguale per tutti gli anticorpi cambiano da persona a persona a volte da momento a momento e quindi capite che le cose si fanno un po più complicate non impossibili ma più complicate perché esiste una notevole variabilità individuale di anticorpi il nostro sistema immunitario ne produce diversi tipi qui vi parlo dei due tipi che maggiormente ci interessano perché sono quelli che si usano nei test sierologici i due tipi di anticorpi sono le igm e le igg dove ig sta per immunoglobulina immunoglobulina è un sinonimo di anticorpo se parli con qualcuno e invece di anticorpo dici immunoglobulina fai sicuramente un figurone e tutti penseranno che sei un esperto le igm in genere sono i primi anticorpi che vengono prodotti dopo l'infezione da coronavirus rispetto alle igg che arrivano più tardi si legano con meno efficienza al bersaglio ma arrivano in gruppi da 5 in pratica ricoprono il virus come dei minions fastidiosi e se tutto va bene lo servono in un piatto d'argento ad alcune cellule del sistema immunitario come i macrofagi che riconoscono a questo punto questo conglomerato e lo distruggono questi minions cioè le igm cominciamo a produrli mediamente 7-10 giorni dopo il primo contatto con il virus quindi dopo il contagio continuiamo a produrli durante tutta la fase in cui abbiamo i sintomi della malattia eventualmente e smettiamo di produrli poco dopo la guarigione quindi sono una risposta diciamo acuta immediata all'infezione tutto quello che vi dico oggi sulle tempistiche di questi anticorpi ve l'ho detto è molto variabile da persona a persona sono usciti per esempio degli studi molto recenti dove alcune persone producono le igm prima delle igg però possiamo dire in linea generale che se troviamo le igm contro il coronavirus significa che siamo di fronte a un'infezione che ancora in atto oppure ad un'infezione molto recente mentre questi minions ancora lavorano il sistema immunitario si sta dando da fare per produrre roba molto più potente le igg le igg si legano in modo molto più efficiente al bersaglio e se va bene bloccano l'azione del virus ad esempio perché si legano agli spikes alle chiavi di entrata del virus e bloccano la loro azione se avviene questo bloccaggio parliamo di anticorpi neutralizzanti non solo le igg scatenano l'inferno perché richiamano gli altri componenti del sistema immunitario e a questo punto in questa fase abbiamo la risposta immunitaria più decisa e potente le igg compaiono qualche giorno dopo le igm ripeto si tratta di una situazione standard che può variare da persona a rimangono durante tutta la fase dei sintomi e anche dopo un bel po' di tempo dopo che il virus se n'è andato quindi se in un test seriologico troviamo sia le igm che le igg probabilmente siamo di fronte a un'infezione che è in atto se troviamo solo le igm probabilmente siamo di fronte a un'infezione nei primi stadi se troviamo solo le igg probabilmente siamo di fronte a un'infezione che è passata si è conclusa una persona che magari ha fatto il coronavirus magari senza neanche accorgersene scambiandolo per una banale influenza e è guarito e ha conservato la memoria immunologica sotto forma di immunoglobuline igg questa memoria immunologica si ricorda del virus anche dopo che la persona è guarita e quindi anche dopo che il virus se n'è andato da un pezzo e se lo rincontra sulla sua strada gli fa un mazzo così ecco perché in genere chi si ammala una volta di malattie infettive come questa non dovrebbe riammalarsi come vedremo il condizionale d'obbligo i test seriologici più in voga per il coronavirus quelli di cui avrete sentito forse parlare sono i cosiddetti test rapidi e sono in pratica delle cassettine di plastica come questa gli addetti ai lavori le chiamano saponette che contengono una striscetta di nitrocellulosa dove vengono fissati alcuni antigeni del virus ne apro uno per voi così vedete come sono fatti dentro ecco c'è una striscia di nitrocellulosa questa che è una specie di carta con una spugnetta per far funzionare tutto come vedete è molto molto semplice sulla superficie di questa strisciolina sono fissati in diversi punti degli antigeni del virus con cui eventualmente reagiranno gli anticorpi se sono presenti nel campione ovviamente qui non si vedono ma appaiono sono visibili nel momento in cui l'anticorpo reagisce con lo strumento parentesi questa è una cosa figa perché questi antigeni che sono i pezzi del virus riconosciuti dagli anticorpi sono prodotti per via biotecnologica cioè si prendono sequenze genetiche del virus del coronavirus e si utilizzano per fabbricare questi antigeni in laboratorio che poi vengono messi fissati su questi supporti per fare il test quella che ho in mano non è una cassetta per fare il test coronavirus serve a fare un altro tipo di esami ma è molto simile e il principio è lo stesso e deposito una goccia del campione poche gocce del campione vedo che il liquido per capillarità si muove lateralmente sulla cartina fino a incontrare il punto in cui ci sono gli antigeni se nel campione è presente l'anticorpo reagisce con l'antigeni presente sulla cartina e avviene una reazione colorata che forma una riga la vedete questa in un punto della striscia c'è una barra che diventa scura se ci sono le gm in un altro punto c'è una barra che diventa scura se ci sono le g le igg poi c'è anche una barra di controllo per essere sicuri che la reazione abbia comunque funzionato quindi ricapitolando se nel campione ci sono le gm si accende una barra se ci sono le gg si accende un'altra barra se ci sono tutte e due si accendono due barre geni come dice il nome il test è rapido pochi minuti si può fare sul posto con una goccia di sangue quindi nessun bisogno di prelevare i tamponi mandare in laboratorio analizzare tempi e costi ridottissimi rispetto al tampone fantastico sì e no perché questi test in teoria fantastici hanno alcuni punti deboli alcuni punti di domanda che ancora non si sono risolti i problemi sono due primo i risultati di questi test non sono ancora abbastanza affidabili abbiamo ancora troppi falsi negativi quindi persone malate dove però le barre non si accendono e troppi falsi negativi cioè persone sane dove invece le barre si accendono per sbaglio il succo è che se il test sierologico risulta negativo non sei davvero sicuro e quindi sei da capo se risulta positivo devi comunque fare un tampone per confermare quindi questi test non sostituiscono il vecchio sano tampone poi c'è un secondo problema anche ammesso che i test diventino più precisi e lo diventeranno lo stanno diventando non sappiamo ancora con certezza se e quanto gli anticorpi contro questo nuovo coronavirus rendano immuni le persone alla reinfezione ripeto al momento attuale non siamo sicuri che una persona che ha fatto il covid 19 e che è guarita e quindi ha le immunoglobuline g contro il virus non si possa comunque riammalare non lo sappiamo ancora semplicemente perché siamo di fronte una nuova malattia un nuovo virus e non abbiamo ancora abbastanza dati per sapere cosa succede dopo 8 mesi dalla guarigione volendo essere ottimisti possiamo dire che il covid 19 si comporta come il SARS che è una malattia causata da un coronavirus molto simile a quello di cui stiamo parlando in questi giorni e per la quale gli anticorpi forniscono un immunità duratura oppure possiamo essere pessimisti e dire che il covid 19 si comporta come coronavirus del raffreddore per i quali l'immunità non dura e quindi ce li possiamo ribeccare dopo un annetto o giù di lì un test serologico positivo dove si vedono le gg positive suggerisce che tu possa avere avuto un contatto col virus e quindi tu sia immune al virus ma da solo non basta per farti dire che sei immune e che puoi uscire fare bisboccia e andare a abbracciare tutti al momento fine aprile 2020 non esiste nessuna ipotesi seria di poter usare questi test per distinguere fra persone immuni che quindi possono uscire lavorare eccetera e non se qualcuno vi dice questa cosa e purtroppo si vede molto in giro vi sta raccontando delle balle inutile al momento pensare a fasi 2 o fasi 3 basate su fantomatici patentini mi spiace ragazzi avervi distrutto questo mito della patente però purtroppo funziona così ovviamente nei prossimi mesi impareremo a conoscere meglio questo virus sapremo più cose e non è detto che questo discorso potrà anche cambiare quindi spettatore del futuro se vedi questo video fra un po di tempo e magari ci saranno le patenti di immunità guarda la data prima di darmi del pirla sto parlando di quello che succede oggi li buttiamo via allora questi test no anzitutto sono utilissimi per fare le cosiddette statistiche di siero prevalenza un'altra parola per fare un bel figurone e cioè capire all'interno della popolazione quante persone sono già entrate in contatto con il virus e quindi hanno sviluppato gli anticorpi magari senza accorgersene come asintomatici oppure scambiandole per una banale influenza per fare queste statistiche che sono molto utili e importanti non c'è bisogno di una grandissima precisione ci accontentiamo anche di numeri approssimati l'importante non dire a tizio caio tu sei immune e quindi puoi andare a zonzo e tu invece no perché come abbiamo visto questi test non sono ancora adatti a sostituire il buon vecchio tampone un'altra cosa che si sta facendo visto che questi test sono economici e rapidi e usarli come prima linea per monitorare alcune categorie di persone a rischio come il personale sanitario i nonnini dell'RSA oppure anche la popolazione in senso più ampio e ogni volta che si vede un anticorpo IgM o IgG positivo a quel punto ci si ferma e si fa un tampone per verificare se ci sia o meno il virus. In pratica non usiamo i test serologici per sostituire il tampone ma li usiamo come screening di massa per identificare le persone che più probabilmente avranno bisogno del tampone. Certamente sarebbe meglio fare i tamponi a tutti ma dato che questa cosa è difficilmente praticabile questa può essere un buon compromesso sempre pensando però che questi test non sostituiscono il tampone. Cervello sempre acceso dentro la scatola cranica non andate troppo a zonzo e siate sempre gentili con voi stessi e con gli altri. Alla prossima! Grazie a tutti!